buongiorno oggi parleremo di emozioni esiste una psicologia delle emozioni paul ekman che è uno studioso nato nel 1934 e ancora vivo si è occupato per tutta la vita di studiare le emozioni ed è arrivato alla conclusione che le emozioni sono un treno fuori controllo vediamo di capire meglio intanto diciamo che la teoria degli affetti distingue gli affetti dalle pulsioni primarie che sono il sesso la paura e la volontà di vivere le tipiche pulsioni freudiane le emozioni e in particolare i disturbi emozionali hanno avuto un ruolo importante nella psicoterapia fin dall'inizio ma erano considerate più dei sintomi da curare che dei fenomeni uno dei primi a rendersi conto che le emozioni meritavano la stessa attenzione dedicata ai processi mentali e quindi alle pulsioni al comportamento è stato paul ekman che giunse a occuparsene attraverso la sua ricerca sul comportamento non verbale e quindi sulle espressioni facciali quando ekman iniziò la sua ricerca negli anni 70 si presumeva che noi imparassimo ad esprimere fisicamente le emozioni in base ad un insieme di convenzioni sociali che differivano da cultura a cultura ekman si recò in ogni angolo del mondo prima per fotografare gli abitanti dei paesi sviluppati come il giappone il brasile e poi la gente che viveva in luoghi inaccessibili senza radio senza televisione come per esempio le giungle della nuova guinea cosa fece ekman ekman scoprì che gli appartenenti a quelle tribù erano in grado di interpretare le emozioni e le espressioni facciali come chiunque vivesse nei paesi civilizzati il che fa pensare che le emozioni facciali siano dei prodotti universali dell'evoluzione umana ekman ha riscontrato sei emozioni primarie la rabbia il disgusto la paura la felicità la tristezza e la sorpresa e per la loro ogni presenza ha stabilito che debbano essere importanti per la nostra struttura psicologica ekman ha osservato che le espressioni facciali legate a queste emozioni sono involontarie vale dire noi reagiamo automaticamente alle cose che scatenano le risposte emozionali e ha aggiunto che la reazione si verifica spesso prima che la nostra mente conscia abbia il tempo di registrare le cause delle emozioni stesse ekman concluse che non soltanto il nostro volto può rivelare il nostro stato emotivo interiore ma che le emozioni responsabili di questa espressione involontaria sono più potenti di quanto gli psicologi avessero creduto nel testo che diventa subito famoso te lo leggo in faccia ekman sostiene che le emozioni possono essere più potenti delle pulsioni freudiane e quindi del sesso della fame e della volontà di vivere per esempio l'imbarazzo o la paura possono prevalere sulla libido impedendo una vita sessuale soddisfacente l'infelicità estrema può avere la meglio sulla volontà di vivere il potere del treno fuori controllo delle emozioni ha convinto ekman che capirle meglio contribuirebbe a superare alcuni disturbi mentali pur essendo incapaci di controllare le nostre emozioni potremmo essere in grado di cambiare le cose che le scatenano e il comportamento che le emozioni inducono parallelamente al lavoro sulle emozioni ekman è stato il primo a studiare l'inganno e il modo in cui noi cerchiamo di nascondere i nostri sentimenti ekman ha identificato dei piccoli segni rivelatori che ha chiamato micro espressioni individuabili in chi sta nascondendo qualcosa in maniera più o meno conscia questo si è dimostrato utile nell'elaborare misure di sicurezza per contrastare il terrorismo i testi chiave della teoria di ekman sono i volti della menzogna te lo leggo in faccia del 2003 e la felicità emotiva del 2008 in due parole possiamo dire che le emozioni possono le emozioni cosa fanno possono iniziare e spesso iniziano prima che la nostra mente conscia sia consapevole quindi è difficile controllare ciò che ci suscita emozioni le emozioni possono prevalere su alcune pulsioni primarie quindi il disgusto per esempio può avere la meglio sulla fame come dicevamo e concludiamo che le emozioni sono potenti e difficili da trattare come un treno fuori controllo bene io mi fermo vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche oppure via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio come funziona la consulenza psicologica specificando nome e cognome e orari preferiti poi potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia inoltre vi informo che ho pubblicato quattro libri che si trovano soltanto su amazon sia in versione cartacea che ebook a presto